ah vedete questo bellissimo coraggioso cavaliere sono io vedete questa innocente fanciulla è la dada e in teoria il cavaliere dovrebbe proteggere la fanciulla non è andata così per niente ma proprio niente io direi che normale va più che bene cioè voglio dire non è che dobbiamo fare gli eroi qua siamo in macchina niente di preoccupante per adesso non mi conosci devo affetto attività illegale nella clinica psichiatrica murko fa una crina la gente soffre quelli della murko fanno i soldi devono saperlo tutti eh vabbè ma è proprio a me dovevi scrivere no chiama la polizia porca troia a me indaga sul manicomio di mount massive si vabbè ma te vieni in un manicomio armato di videocamera e due batterie avrai fatto una ricerca su wikipedia prima di andare in sto cazzo di manicomio guardami ci spugli che trovi il tuo padre che hai lanciato SK 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 basta corro intanto se devo uscire qualcuno si è chiusa la porta tu non sei normale a me che fai più paura a te allora apro piano sfondo apro piano sfondo sfondo che è un prosciutto prosciutto della conad oh che schifo questo c'ha la testa aspetta e cosa ti fa? gli altri non c'hanno la testa questo c'ha la stai basso stai basso qui prima c'era una ma ci possono uccidere porceli orca madonna è brutto questo cioè io voglio dire non mi potevano imitare a Gardalan ciao zi tutto a posto eh? non ti muovere perché giuro che ti do ti do una pigna nella testa e ti riaddormento se ti muovi ha avuto il mestro potente questo qua nel mezzo c'è qualcosa che si muove chi si muove? una batteria una batteria nooo è chiusa la porta si si è chiusa la porta e quindi? e quindi la riapro per sbirciare io non voglio sbirciare vabbè ma siamo d'alto quello si muove poi aspettiamo che muore vabbè ma anche se si muove questo guarda come è messo quella sono io quando mi offendi questo gli faccio una frog splash dall'alto ciao ecco la non te muo ma cazzo non ti muovi che devo premere che cosa non lo devi premere che figlia dalle ti hai rotto un bacio comunque mi hai fatto un male e mi hai tirato sul commentario ma cazzo sarà offesa parte 2 ricorda che puoi guardare alle tue spalle tenendo premuto no io non guarderei alle spalle perché dove ma perché c'è scritto sta roba scusa ma che brutta corsa è ma cosa c'ha il collo di un gufo c'ha youporn.it slash oh 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 non è vero bell non è vero bell sento una voce non senti delle catene sono l'unico esco oh 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 comodosa dove è venuto 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 non credo che questa sia la mossa giusta che dove è venuto chiudi sta porta chiudi 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 io è il cammino cosa fa ti infili dentro il cammino attiva le due pompe del gas e l'interruttore principale per eh la madonna due pompe del gas è l'interruttore principale ci sono due porte tre porte ah ogni porta è una non scappa ma non mi vede non è uscita non è uscita non c***o terapia ma cosa sei scema ma me sono chiuso fuori me sono chiuso fuori madonna bulgara mori che bu è qua dove mi nascondo M'ha visto, m'ha visto, m'ha visto E' qui E' qui E orca madonna, ce l'abbiamo qua a sinistra Ce l'abbiamo No Perché apre? Che cosa? Aperto Madonna mia Vai via dai E' qua C'è dopo un armadietto dove nascondermi Lì Ah raga Non lo so perché sto idiota quando Ma Deo ma cosa sei scena? Ah mi so Mi ha visto, mi ha visto tutta la vita Madonna Mi ha visto tutta la vita Ah mi devi attivare Bantene 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 Corri Corri Dove cazzo devo andare? No non è qui Non è qui Sta Chiudi 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 Io Questa roba qui non c'è gioco più con te Oh io c'ho i rumori più Senti le mie Ma prima c'ho i rumori più farti io Poi c'ho i rumori più farti Senti le mie Senti le mie cuffie Aspetta Sei pronta? Sei pronta? Si sente più alto? Si Eh? Cosa c'è un tic? Sta ballando Salve siamo Emiflex Dovrei controllare il suo letto Ok Perfetto Diciamo che Mamma mia zi Questo è il gobbo di non te lo danno Ma questo Mena Secondo te? No Ma è un Mena no Oh Una mezza testata Mo' glielo ho data Dove erano gli armadietti? Oddio Oddio Codì Ma perché buttano giù le porte In sto cazzo Oh ma è un Mena Oh zi Ma zi Eravamo amici Ma che t'ho fatto? Manca resti due Ma son nudi Beati loro Lo dì Beati loro Ma di buono Non ci sarà nessuno qua Voglio dire no Ho appena aperto con la chiave Adesso andiamo Per non saperne leggere Ne scrivere Andiamo Oh È uno Sara non ha paura Ho un corno Apri le due valvole Per far scorrere l'acqua Matteo tra poco potrebbe svenire Ve lo dico Ho un corno Ho un corno Ho un corno